Per me è sempre stato un sogno per andare a Milan, alla fine c'era la possibilità, ho preso, sono molto contento per stare qui, è una società molto molto grande e si senti quando tu fai il giro qui a Milanello che c'è una grande grande storia, una delle società più grandi del mondo, allora è un piacere stare qui e sono molto molto contento per essere qui. Sempre speciale quando un idolo per te ti chiamo e dice che vieni a Milan, la storia della carriera di Paolo Maldini è solo il massimo rispetto e poi quando pure lui sei gentile è ancora meglio, Allora per me è stato un piacere conoscere e diciamo per me si ho fermato però come detto prima per me è un sogno essere qui, allora adesso sono qui e adesso devo rimanere, allora quello è il mio obiettivo per rimanere qui e dare una mano e aiutare la squadra il massimo che possibile. Penso che l'obiettivo adesso è di lavorare ogni giorno e migliorare ogni giorno, siamo più punti possibile, poi qualità ci sono qui, allora poi pure quando lo porti un giocatore come Ibra dà qualcosa per il gruppo, dà qualcosa per tutti sul campo ma pure mentalmente, allora io penso è troppo pesto a pensare fino a campionato, dobbiamo pensare ogni giorno e migliorare ogni giorno e l'obiettivo è arrivare il più alto possibile e dare il massimo. Sì, assolutamente, io ho incontrato un po' di volte nella mia carriera, anche tanto, abbiamo avuto le nostre guerre sul campo però adesso non c'è nessun problema, anche parliamo tranquillamente, abbiamo lo stesso motivo adesso, l'obiettivo per dare una mano a Milan e arrivare il più alto che possibile, allora lui, come ha detto Bekovic prima, che fa la sua presenza da stimolo per tutti, è un grande campione, la sua carriera parla, neanche devo parlare di tutte le coppe, tutte le trofee che lui ha vinto, è un piacere per tutti.